Gentili telespettatori, buona nottata. Il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico ha individuato un aereo che è entrato nello spazio aereo nazionale senza essere identificato. Due caccia intercettori Eurofighter EF2000 in servizio presso il 51esimo stormo di Istrana hanno ricevuto l'ordine di decollo in mediato in gerco tecnico Scramble e sono intervenuti per identificare un veivolo da trasporto di una compagnia aerea americana che durante il sorvolo dello spazio aereo nazionale aveva perso i contatti radio con gli enti del traffico aereo civile, lo riferisce l'arenautica militare in una nota. Una volta raggiunto il veivolo nell'area a nord di Bolzano, grazie alle coordinate e alle informazioni fornite dal personale guida caccia a terra, è stata effettuata la prevista procedura di visual identification per accertare che non vi fossero condizioni di emergenza o di minaccia alla sicurezza nazionale. Dopo aver effettuato tutte le verifiche necessarie con gli enti del controllo del traffico aereo e ripristinati i contatti radio, i caccia hanno fatto rientro all'aeroporto militare di Istrana. La missione è stata coordinata e gestita dall'ITCOAC del Comando Operazioni Aerospaziali Italiane. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata.